Poi ammazza tutti, si spara pure a noi, attendi alla dinamite Ma cosa si deve fare qua? Eh, qua dobbiamo parlare intanto con questo E poi Dobbiamo Cercare il treno Dobbiamo cercare di non morire Eh, soprattutto quello Allora Andiamo a destra? Secondo me adesso starò a destra, l'altra volta era a sinistra Quindi se alterna ogni volta dovrebbe stare a destra Ah, e allora io vado a sinistra Che fiducia Perché c'è la cerniera? Perché ho dei bisogni, poveretto Ma non spero no Mira, mira Mamma mia che slalom Sessione Edgy, guarda il sedere Destra, destra Destra, turududududu Turudududu Toc Tarkina è scappata Non ti mettere dietro Eh, Tarkina c'è i ripresi Ma Tarkina è scappata Neanche se è fermata per raccogliermi L'ha fatto bene L'ha fatto bene L'ha fatto bene E' già stato che l'ho mi ha calcolato Veramente Conoscendola Arrivo No, ma 19 colpi c'ho Povera me Che si deve fare? Spy Ci deve ammazzare La gente Dovresti Vabbè No, ammazzare tutti quanti Qua è impossibile quasi Riconoscerli Ti conviene salire Ecco, sul treno Ma perché non escono i pallini? Non si capisce quale sono Ma è pagata Perché? Ma non escono i pallini Ah, eh no Questo è così No, no Questo è così Già Questa non si vedono i pallini Eh, vabbè Io come faccio a te Ammazzare tutti Eh, devi sentire Eh sì Per quello che io Ammazzare tutti quanti Non guardo Non guardo Eh Sì, vabbè Non mi viene Non guardo Ammazzare tutti quanti Non guardi, rai No, non guardo Ti vuoi lasciare in vita? Sì Arrivo Corri Corri Aspetta 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 Non solo Ci dobbiamo rifare La visione Adesso Con il sorriso Beh, certo Sempre con il sorriso Si devono dire le cose L'autorionia Scusa Eh, è una pazza No Dai, dai Dai, dai Che non è difficile No, questa Anzi Secondo me È una delle più forti Vabbè, ma anche voi Che mi lasciate da sola Là Beh, è infatti Colpa di Cora Che l'ultimo era Cora Ancora Stacca e farti Fai finta che non Vieni No, ma scusa Allora E lì Era stata investita No Dal mio cavallo Tu ci hai passato a manetta Poi come sei morta Non ho capito Mi ma quello Mezz'ora prima Era successo Eh, comunque Eh, eh Vabbè Ma era comunque Davanti a te Eh, sì Poi Io sono andata in avanti Per cercare di aiutarti Che vedevo Che c'era un sacco di gente Cora Era rimasto lì dietro Poi l'ha abbandonata D'Archina Pino Ah Pensavo che era Qualche cavallo Pino Eh, non ti conviene Nasconderti Ti conviene Venire in su Perché Vengono da tutti i dati Quindi se ti Se noi avanziamo E tu rimani indietro Succede come prima Perché questi Vengono Non solo Stanno sul treno Ma arrivano Anche da fuori Ora Qua sotto è Uno, due Seguci Ma si Ma è impossibile Qua guardare Quello giusto E quello sbagliato Da beccare Arrivano Qualcuno Qua dai lati Sono morto Come un petto Di bordo Eh no Sono morto Croccio Sono un micro Sotto di binario Colpa di D'Archina Che stava nascosta No C'è C'è la D'Archina Non era nascosta 3, 2, 1 Ciao Sono morto Io Poveri noi Oddio Questa è la missione Che ci farà fare La nottata Ma chi è che è volato Qua Eh vabbè Da fermo Giocatista Questa è veramente La missione Che ci farà fare La nottata Beh ancora Non siamo riusciti A farla Eh ma infatti Non Eppure Non è difficile Come missione Anzi come dicevo prima Secondo me È l'unica Eh vabbè Eh no È impossibile Catturarli qua Poi se vuoi Eh vabbè Allora catturiamoli Siamo bene qua Fino a domani Vabbè Vuoi catturarli Allora La maratona Ok Allora ancora Aspetta Non Non ucciderli I bersagli Vediamo Quanto Quanto Duriamo A fare Quanto 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 Duriamo a fare Aspettate La d'arcina E qua Siamo Che Terra Un'altra Cavallo Che senso È morto? Sì ci sto io qua No ma No Come Come fai a morire così sul cavallo No ma come faccio Ok Che brutto bug questo pure Ok Pinocchio Che d'arcina Sali da te Eh no Comunque Ok Via Perché ti fermi? Eh ho capito un po' Nel momento sbagliato Mi sono persa Segui i binari Come hai fatto a perderti? Cioè Ci sono i Ah ci sono i teschetti rossi Segui i teschetti rossi Mi vedo Sciu 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 Tutu tutu Oddio no Che è successo? Niente Ma dove siete voi? Ci siamo persi Certo solo io al treno Cos'era? Mi è che ha faiato? E' il cane è entrato C'è anche solo sul treno No c'è anche Pino sul treno Ma guarda tu dove mi sta facendo passare Cora porca di quella miseria Per seguire a lui Meno male che sei morto Che qua ci eravamo persi La scampagnata col tavano La guardavo io sul treno E loro tranquilli Dove ci fermiamo? Con la pieta? Hai portato i panini? Certo la lasagna I cannelloni Sto missione Dai dai Divertente però Ah si si Abbastanza Facciamoli fuori tutti Dai Ho le dinamiche Ho l'arco e le frecce Ho l'arco e le frecce Ok io salgo Sali Ok Boh Ma una terra? Cioè giù dal treno? Boh Eh si ma perché mi chiedevo più che altro Oh 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 orca miseria Una buona mia Che si è andato allo spat crema Io l'ho scazzata Sa un volo C'è arrivato attenzione abbiamo un'archina davanti che sta proseguendo attenzione con cazzo vera io provo a fermare il treno io sono caduta siamo cadute tutti insieme tutte e due insieme poi l'hai atterrato il treno col paracadute si è atterrato no 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 l'ho ucciso oh guarda questo è nascosto qua dietro vai vai che lo leggo uno il preso no non è questo ho sbagliato ho sbagliato il bersaglio chi sarà questo ah qualcuno ha fermato il treno meno male ok ok uno l'ho legato è vivo si si è fatto no ma forse l'ho legato ok si perfetto sono legati sono tutti e due tutti e tre no tutti e due perché uno è morto che è successo che mi sono persa no ma che cappello il bersaglio prendi no il cappello no che cambia cappello ah che cappello ma no ma sei bugato uno qua no mi sono bugata io aiuto ok qua si è bugato uno ok si è sbagato ah no ero bugata io allora prendilo oh 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 ok ma guarda questo si è raggiunto con il cavallo sul treno chi come passa ancora ancora tu dov'è che stai il treno no 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 e questo perché nel cavallo ti arriva da questo lato da quest'altro lato ok no ecco l'ho trovato trovato ho visto sì infatti offerto questo cappello mi fa un po schifo però ma no ma che cosa spazzola dovevi prendere il capello il capello no è capello ok invio va bene a mezz'oretta ci abbiamo messo non abbiamo messo il mio mio cavallo c'è un torcicollo sperona vedi c'era peroni e sperona come come mi può interessare come birra la sperona ha detto che c'è la peroni e poi la sperona appunto può interessarmi come birra allora quasi quasi ma io dico no ma sto carretto ma chi ti beccato ma sto carretto ma chi ce l'ha messo qua a mezzo così va per la miseria non c'è la maietà Sì